come la tradizione a Livigno si scia fino a maggio e la neve di primavera è quella che attira moltissimi appassionati andiamo a scoprire il perché Quali sono i vantaggi di sciare in primavera? Direi innanzitutto le temperature perché come si può vedere adesso si può quasi sciare senza giaccavento, le temperature sono molto alte e soprattutto la neve tiene ancora bene in alto L'evento dell'inverno di Livigno, il Nine Nights, il castello di neve dove si sfidano i migliori free skier del mondo torna quest'anno dal 30 di marzo al 4 di aprile e guardiamoci il teaser dell'edizione del 2013 Le giornate sono più lunghe, la neve è bellissima quest'anno soprattutto in questo periodo e quindi merita Venire a sciare quando c'è il sole che splende è meraviglioso, poi in una splendida località come Livigno è fantastico Sono qua per fare un weekend un po' lungo così approfittiamo di qualche lezione per raffinare la tecnica e poi fare shopping, proprio allo stato puro Vieni a Livigno perché qui gli anni non passano I'm all about that bass, but that bass, no trouble I'm all about that bass, but that bass, 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 Bass Grazie.